Ciao a tutti, oggi rimbraccio il mio uncinetto e volevo condividere con voi questo tipo di guanti, quelli che si chiamano guanti senza dita, che tengono molto molto caldi. Si tratta di un progetto che io avevo trovato molti anni fa in un sito di una ragazza australiana, purtroppo io non ricordo né il nome né il link del blog che aveva e che credo abbia ancora. Anche se sono guanti senza dita sono abbastanza caldosi e mi tengono le mani calde anche e la possibilità di muovermi tranquillamente. Ne ho fatto un tipo più piccolo con della lana più grossa, proprio per farvi vedere la lavorazione in maniera migliore. Questo punto si chiama maglia bassa a rilievo perché si userà solamente una parte del punto. Come sappiamo la catenella, le maglie, hanno due, quelli che chiamano loop, due anelli. Noi lavoreremo solo su quella interna, che si chiama back loop. Ma vi faccio vedere sul campo. Se vi va cominciamo questo progetto. Io sto usando un tipo di lana che si può crocettare con l'uncinetto numero 6. Mi dispiace che il colore non è troppo diverso, ma ho due sette di uncinetti. Giusto giusto le numerose erano entrambi di questo colore. Allora, bisognerà fare tante catenelle per quanto si vogliono fare lunghi questi guanti. Io per questi ho usato, che appunto è un filato un po' abbastanza più sottile, avevo fatto come lunghezza 32 catenelle e come larghezza, 30 catenelle. Ma quello dovrete vedere voi, perché sia per l'elasticità della lana, vedete, è come se fosse una una maglia elastica, sia per questo sia per la circonferenza della vostra mano. Indicativamente, appunto, io ho fatto 32 per 30 di circonferenza, diciamo. Per questi invece ho fatto 20 catenelle di lunghezza e 25 di diciamo circonferenza. Quindi cominceremo 20 catenelle. Ripeto, tutto sta anche al filato che usate, all'uncinetto che usate, alla circonferenza della vostra mano. Quindi diciamo, 20 catenelle e 20. Adesso si deve fare una maglia bassa partendo dalla seconda catenella. Quindi non questa, ma questa. Quindi un giro di maglie basse. un giro di maglia bassa partendo dalla vostra mano. questo è il primo giro di maglia bassa. Adesso si dovranno fare due catenelle che equivalgono alla prima maglia bassa. Adesso si deve fare una maglia bassa partendo dalla seconda maglia bassa sottostante. Quindi questo è uno dell'uncinetto, due, da qua. Ecco. In genere si dovrebbe fare in questa maniera, prendendo i due anelli. Invece in questo caso si prenderà solamente l'anello di dietro, che sarebbe appunto, come vi dicevo, il back loop, come una maglia bassa tranquillamente. Qui già sono due maglie basse, perché una sono le due catenelle che abbiamo fatto in precedenza. e si continua così, prendendo la lana dal back loop. È molto molto facile, soprattutto se userete della lana grossa, sarà molto più visibile questi due punti, questi due anelli. Quindi faremo tutto un giro in questa maniera. Arrivati al penultimo punto, state attenti perché sembrerà che questo non sia un punto, invece sì. questo già è un rilievo. Girando, effettuando sempre le due maglie, le due catenelle che sono, che equivalgono alla prima maglia bassa, si farà una maglia bassa nella seconda, io spero che si riesca, ecco, nella seconda maglia bassa. Maglia bassa sottostante. E si faranno così tutti i giri, tutti prendendo il back loop, tutte maglie basse. Ogni tanto, prendete la misura della vostra mano. Ovviamente così è piccola, insomma, ancora. Quando arriverete a chiudere tutta la mano, abbiamo praticamente finito di fare il guanto. Poi dovremmo solamente cucire. E poi ci vediamo dopo per questa fase. Sono arrivata quasi alla metà. E ho pensato di farvi vedere il lavoro. Vedete? Fa una specie di ondina, proprio in rilievo. Ed è anche abbastanza elastico come punto. Volevo dire che questo progettino può essere fatto anche dalle principianti, pensavo. Perché la differenza, appunto, non è di entrare all'uncinetto qui, ma entrarlo nel back loop, nell'anello di dietro, posteriore. E poi può essere la difficoltà magari di arrivare alla punta, perché effettivamente non lavorando tutte e due gli anelli, questo poi sembra sempre che non debba essere fatto, come non deve essere crocettato, io dico. Però facciamo un giro insieme, magari così risulterà un po' più chiaro. Quindi ho girato il lavoro, due catenelle che andranno a sostituire la prima maglia bassa. Adesso l'uncinetto va a infilarsi nel back loop, questo, della seconda maglia. Cioè, voi dovrete conto che quella che c'è nell'uncinetto non si conta. Quindi questa sarebbe la prima e questa è la seconda. Quindi, infiliamo l'uncinetto e qui sono già due maglie basse, perché, ripeto, le due catenelle rappresentano la prima maglia bassa. E adesso abbiamo fatto la seconda maglia bassa. Per non confondersi, io consiglio sempre di contare le maglie che si fanno. Quindi due, tre, quattro, cinque, sei, sempre quello dietro. Uno, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici. Tredici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove e venti. Ok. Sì, questa sembra una maglia da lavorare. Però, vedete, è come se fosse un'onda. Io spero che... ecco. Ci rivediamo alla fine. Ecco fatto. Arrivati alla fine, lasciate un po', non tagliate subito il filo, lasciate un po' di lana, perché dovremmo cucire la parte per poter chiudere il guanto. Quindi lasciate... io in genere lascio il doppio della lunghezza, diciamo. Faccio così e lascio il... e così. Lascio il doppio. Se trovo... ecco. Taglio il filo. Adesso servirà un... un ago da lana che io avevo qui e non trovo più. Ok, eccolo. Era talmente... l'ho messo così che non... Allora... Prendiamo il capo del filo, lo passiamo all'interno dell'ultima catenella fatta e tiriamo. Ok. Adesso dovremo fare... Prendiamo le due parti... E mettiamo il... Un semplice ago da lana. Ci sono questi di plastica che io consiglio, perché sono più morbidi. E poi ci sono i classici, quelli diciamo da materasso, che vanno bene. Io ho usato questo maggiormente perché è la lana abbastanza grossa. Che già difficoltà... ecco. Adesso dovremo... Prima abbiamo fatto back loop, cioè la parte dietro del punto. Adesso faremo la parte davanti, che è il front loop. Cuciremo front loop da questa parte, front loop da questa parte. Quindi mettiamo bene il nostro lavoro e faremo il front loop della prima maglia e il front loop della prima maglia. Vediamo se si vede... Ok. Tutto beige sto vedendo, tra beige e giallino. E chiudiamo. Stessa cosa con la seconda maglia, front loop, front loop. Non tiriamo moltissimo, ma neanche poco. Front loop, front loop. Questa è la parte del braccio. Bisogna tenere conto che dal momento in cui cuciamo è la parte del braccio. Che parte dal braccio. Quindi voi dovete calcolare come se fosse messa così. Questa è la parte del braccio. quindi tre li ho già fatti quattro front loop con il front loop quinto front loop con il quinto front loop sesto settimo sempre prendendo i front loop ottavo e nono adesso dobbiamo lasciare cinque punti liberi in 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.